A chi non è mai capitato di avere il computer che ti tartassa per fare gli aggiornamenti di Windows? Sì lo so, ti esce la finestrella in basso a destra che ti dice vuoi fare l'aggiornamento, x aggiornamenti disponibili, vuoi farli adesso, vuoi rimandarli, fra 4 ore riavviano e riavviarle, e alla fine finiamo con rimandarli. Devi sapere che gli aggiornamenti del sistema operativo sono molto importanti perché vanno a tappare le falle e a migliorare a volte le prestazioni stesse del computer. Perché? Perché nessun sistema operativo nasce sano, come non tutte le ciambelle escono con il buco. Quindi, gli aggiornamenti non sono altro che toppe di sicurezza che chiudono le falle dal quale i virus entrano e le falle che i pirati utilizzano per entrare dentro il tuo computer. Quindi gli aggiornamenti sono di vitale importanza. Uno, per la sicurezza del tuo computer. Due, per le prestazioni del tuo computer. Tre, per la stabilità del tuo computer. Quindi il consiglio che ti do è, fai sempre gli aggiornamenti, imposta sempre gli aggiornamenti su automatici e mi raccomando, quando fai gli aggiornamenti, segui la scritta che ti dice non spegnere il computer. Perché spegnendo il tuo computer potresti corrompere irrimediabilmente il sistema operativo e trovarti con un computer che non si accende più. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.